Nella mattinata di ieri, presso la caserma giudice, sede del comando provinciale, la Guardia di Finanza di Salerno ha celebrato il 246esimo anniversario della fondazione del corpo. Alla cerimonia, che si è svolta tenendo conto delle limitazioni imposte dell'emergenza epidemiologica in atto, ha preso parte il prefetto di Salerno, Francesco Russo. È stata anche l'occasione per tracciare il bilancio operativo 2019 della Guardia di Finanza e dell'emergenza Covid-19. Quest'anno ricorre il 246esimo anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza. Abbiamo effettuato una cerimonia a ranghi ridotti nel rispetto delle normative di Covid, quindi abbiamo avuto la presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Salerno. Chiaramente l'anniversario è anche un momento di bilanci. Bilanci riferiti al 2019, l'anno concluso, è stato un anno impegnativo per la Guardia di Finanza di Salerno, che è riuscito a esprimere un'azione maggiormente incisiva sul fronte del contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale. Due dati su tutti. I sequestri di patrimoni degli evasori fiscali sono sostanzialmente triplicati. Dagli 11 milioni del 2018 siamo arrivati ai 35 milioni del 2019. Quindi si tratta di misure incisive che intanto consentono di cautelare il patrimonio degli evasori nella prospettiva di risarcire il danno regato al fisco. Un altro dato che misura l'incisività dell'azione della Guardia di Finanza sono le misure cautelari di carattere personale. Rispetto alle 20 del 2017 e del 2018, nel 2019, nel corso di 11 distinte operazioni di servizio, siamo arrivati a circa 100 provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti indagati per reati di varia natura.